Nell'episodio precedente ho parlato della retrogradazione dei pianeti di nascita, pianeti che non devono assolutamente essere interpretati come negativi quando sono di nascita. Una cosa differente sono invece i pianeti di transito. Oggi, il 19 gennaio 2023, Mercurio riparte dopo alcune settimane di muoto retrogrado. In realtà è partito ieri nel pomeriggio, quindi il giorno 18 intorno al pomeriggio, però ufficialmente parte oggi. Dopo la retrogradazione la velocità riprende in modo molto veloce. E che cosa succede? Succede che riattiva delle simbologie che di transito aveva un attimino bloccato. Mercurio parla di idee, parla di comunicazioni, parla di messaggi, parla di internet, parla di comprensione mentale. Ricordiamo che Mercurio è il pensiero, non è la parola. Spesso a volte viene confuso con la parola dagli astrologi dilettanti. La parola in realtà è Giove, Giove è legato alla parola. Per questo viene detto esaltato in toro, che è la gola. E allora cerchiamo di capire un attimino questo Mercurio che attraverserà tutto il Capricorno fino al 12 di febbraio, dove entrerà poi in acquario. Quindi fino al 12 di febbraio c'è questo passaggio importante di Mercurio, veloce, attraverso il Capricorno e quindi sbloccherà situazioni legate a idee, legate al commercio, legate appunto all'esigenza di chiarire, all'esigenza di prendere comunicazioni con determinate situazioni o determinate persone. Ed è un transito molto bello, siccome arriva appunto dal Capricorno, per tutti i segni di terra. Quindi Vergine, Toro e Capricorno sicuramente saranno agevolati da questo transito. C'è la necessità anche di muoversi di più. Quindi può essere che ci siano dei giorni in cui ci si senta più attivi, si fanno più cose, oppure in poche ore si riesce a concretizzare tanto. È un transito molto bello anche per i segni dello scorpione e dei pesci, sono due segni d'acqua, quindi c'è comunque una comunicazione empatica, per cui, non lo so, dopo alcuni momenti di silenzio col partner si torna a comunicare, ecco, mettiamola così. Un pochino meno agevolato è il cancro, che è opposto al Capricorno, per cui l'opposizione di Mercurio al cancro tende sempre un po' a chiedere, di fare un po' attenzione ai misunderstanding, di mettere chiarezza, di spiegarsi a livello emozionale se ci sono cose che non vanno. E quelli un pochino più sfortunati sono coloro, sono i due segni che fanno da quadratura al Capricorno, che sono la bilancia e che sono la riete. In questo caso potrebbero esserci ritardi, potrebbero esserci comunicazioni spiacevoli, potrebbero esserci, anzi, potrebbero anche non esserci comunicazioni, se uno le aspetta. Mercurio è anche legato appunto agli spostamenti, quindi piccoli spostamenti fastidiosi che non si voleva fare, piuttosto che, non so, della merce spedita che non arriva, piuttosto che essendo collegato alla comunicazione, quindi anche alla telefonia, compro il telefono, non funziona, o mi cade, si rompe lo schermo. Per cui è importante, soprattutto per bilancia e soprattutto per ariete, cercare di capire che in questo momento c'è una disarmonia intellettuale col pensiero. E quindi l'unica cosa possibile da fare in questo momento è riflettere e non agire d'impulso, perché altrimenti si potrebbero commettere degli errori. Solitamente i transiti, quando non vengono compresi a livello di coscienza, perché bisogna sempre parlarne prima che l'evento capiti, per questo si va dall'astrologo, e non dopo, però quando non vengono compresi poi i transiti agiscono ovviamente a livello fisico, cioè nella materia, attraverso la materia, attraverso il mondo. Per cui è importante dare un senso alle cose che accadono. Che ne so, sono rimasto in silenzio, non so, una bilancia, una riete, sono rimasto in silenzio con il mio partner per tanto tempo, avrei voglia di dire delle cose e non le dico, magari mi cade il telefono e si rompe, perché questo può essere un simbolo che chiede di essere interpretato magari come una rottura del silenzio, oppure visto che non usi il telefono io te lo rompo, cioè accentuo, sottolineo maggiormente questa tua parte, questa tua presa di posizione, sbagliata ovviamente. Per cui è importante sempre la flessibilità. Grazie per l'ascolto. Grazie. Grazie.